ah vado di ciupano ha vinto l'haron classic 2024 direi ultra meritatamente io sinceramente prima della gara mi aspettavo che avrebbe vinto samson piccato per questioni politiche e perché era in rampa di lancio però ovviamente almeno una volta ha vinto la meritocrazia adi è stato il più meritevole di questa vittoria senza discussioni già da ieri dal pre judging si vedeva che era molto molto più in forma qui celebra con il buon e in rambod e l'unica domanda era cosa vogliono i giudici l'estetica o la definizione e ha vinto la massa granitica di adi quindi secondo samson terzo brandao fantastico quarto jonathan della rosa quinto james hollingshead sesto kim williams settimo tuan vailan ottavo jason rodriguez nono un ultra deludente ols md marcello de angelis e decimo posto mohamed shaban poi i prossimi giorni farò sicuramente un'analisi più approfondita di adi contro samson però dicevo la domanda era solo quella cosa vogliono i giudici e questa è la cosa che non sappiamo mai perché ogni tanto vince quello che è più estetico come meno definito ogni tanto vince più definito il più granitico ieri o oggi ha vinto quello più definito più massiccio più granitico cioè adi ma direi che è stata una vittoria molto meritata perché come ho detto molte volte samson ha dei punti deboli che non colmerà mai soprattutto la schiena che è un po migliorata ma non è una cosa incredibile guardate che differenza di apertura tra le due schiene cioè adi è alto 20 centimetri in meno se non di più samson deve avere una schiena sicuramente più larga soprattutto anche nell'asperd guardate l'asperd quanto è più largo adi ed è 30 centimetri più basso 20 non lo so in più samson oltre a questo difetto genetico perché non lo colmerà mai questo della schiena non arriva mai definito quindi questi sono i punti deboli di samson e lo dico da da secoli samson può puntare sull'estetica quando è abbastanza definito però probabilmente contro un adi chupan che è sempre definito c'è poco da fare per lui perché comunque non raggiungerà mai certi livelli estremi di definizione probabilmente adi è anche portato geneticamente quindi in maniera positiva per essere definito cosa che non è samson per quanto riguarda il secondo call out brandao davvero fantastico molto migliorato rispetto all'olimpia di 2022 ha messo qualche chilo ma niente di eccezionale quindi rimane sempre sul versante piccolo tra virgolette però un'ottima prestazione secondo me a questo punto potrà far bene anche all'olimpia avvicinarsi a una top five salvo anterra brada andry jack e crizzo permettendo bisogna vedere anche lì cosa vogliono i giudici l'estetica o la massa ottimo giornata della rosa che quest'anno si è un po' rifatto quest'anno non 2024 in quest'ultimo anno si è comportato molto bene buono anche james holinsed e akim williams secondo me come avevo detto qualche video fa sta perdendo un po' terreno perché ha una schiena così così la definizione non è mai eccezionale però non si è comportato male una buona prestazione anche per lui e antuan vai lan come avevo detto nei video precedenti all'olimpia doveva puntare sulla definizione perché chiaramente non è il più grosso non è il più estetico così ha fatto e non gli è andata malaccio direi infine parliamo dell'ultimo call out justin rodriguez la spuntata sugli altri due mi ha davvero deluso orse mi dì la riprova che le foto di instagram non servono assolutamente a niente però mi aspettavo qualcosa in più invece ha scelto sempre le foto migliori di schiena fa cagare e la schiena la definizione sono le cose che l'hanno penalizzato di più secondo me davvero mi aspettavo di più anche perché ha fatto molto bene nelle gare post anzi nella gara post olimpia a romania però se non sbaglio però di schiena direi che non ci siamo momo shaban buono ma non incredibile justin rodriguez la spuntata secondo me col posing e con la definizione perché anche lui alcune pose ce le ha un po così così comunque appena usciranno video in ultra hd farò il comparison samson contro adi o adi contro samson ribadisco vittoria meritata di adi per fortuna la politica non ci ha messo lo zampino non gli hanno fatto pagare la sceneggiata alla premiazione dell'olimpia quando è scappato ottenere la medaglia ha vinto il migliore per una volta non è sempre così però ha vinto il migliore quindi veri compliments adi chupan poi appena ho i video in hd farò anche il comparison vero e proprio buona grazie a tutti Grazie a tutti.